è un bambino bro a due anni questo c'è il russo dietro ubriaco che ci pensi assistiamo al bambino che viene picchiato no ti prego vabbè no no chi è il blu amato dai non può portare un ragazzino a pinnacoli cioè violenza vikingi l'ho moderca tovarish priviet no rush bp 90 no senti come urla ma si sente solo uno che urla ha detto io stanni ha detto io sto c'è la pazzia che disagio sentirò come no no non lo picchia ma cosa sta succedendo cosa sta accadendo in questo game aiuto giro stai giocando il ragazzino e c'è uno dietro degli urla e fuori c'è qualcuno che parla russo in chat bro c'ho pure per il bambino questo se lo mangia i rossi sono famosi per mangiare i bambini gli sta sbroccati broia sta sbrocca malissimo quello che grida urla sbraida c'è un r decente in giro m4 io c'ho uno shotgun e le stico ok i ragazzino russi mi ha troppo a tutti i mini e e dentro dove uno lo metto su e giù col mouse tipo a te dove piace andare scream power eh? dove ti piace andare a te in scream in scream? sono the kind of tilted guy però nessuno ci vuole mai andare con me amico è la pazzia cioè se la si gioca che ha detto? curva? non ne ho una idea curva? non dire queste cose oh che magari le impara senti me lo prendi il medikit? me l'ha un culato è passato in russo e l'ha rubato vabbè moderca DM fai pena piatelo mamma mia ma questa appena ha iniziato a giocare vedi come si muove guardalo ragazzi clippate e dite re no aspetta mi sono com'è mi sono com'è mi sono com'è ti sei drogato autistic man mamma mia ottimo prestazione per la kids vuole provarci bam bam 65 bam manca ancora il corpo prova con lo scaracca prova bam mamma mia eccolo ancora le kids proprio lui ah ah che se sto parlando l'inglese probabilmente anche meglio dell'italiano è comunque un feeling diverso ragazzi Grazie a tutti. Non ho più punizioni. Ho 11 punizioni, boys. No, 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 no. Non roppere il cazzo. Non roppere il cazzo. What am I looking at up there? I'm assuming that guy has the sword. Yeah, probably, probably. Didn't mean to fall all the way down there. It's tough, dude. Sì 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 Tim 3 miei amici Ragazzi innalziamo un coro Allora ragazzi che la vince dovete sultare tutti Ok Sì Mica è Francia è fuori Eeeh Offro il caffè a tutti quanti Nooo devono esultare voglio sentire urlare Ok ma io mamma mia Eeeh Dai quanti casti ne ho? Eeeh 1v2 1v2 Mamma mia Oh Vai 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 Vale Vedi Val Bella Le perché perché la domanda è perché vi drogati così tanto è quello di e quello dell'inizio game comunque ragazzi è l'ultima ma un pompa non c'è niente ma che è io cambierei di edificio al volo c'è gente qua legno c'è un cazzo io c'ho un m4 io qua sotto morti due c'è vai visarti sei acceso c'è gente al parchetto davanti che non sono acceso sono spento non non c'è nessuno bravo no pure tutte d'acqua giù sono l'attacca dietro non hanno cura sembra proprio no finito il mass io sono sopra uno lasered mettato l'altro sto spostando sono one shot non ho massi ma serato buono l'amico è lì mi focus senti io lo bussio non give a damn bro non ho vita non ho un cazzo infilista casa non ho